710 metri il record è tenuto dai greci di 710 metri che dobbiamo battere secondo noi non lo so, non ho idea, abbiamo presso il mondo, per noi siamo i campioni del mondo comunque, indipendentemente dai metri, sono 2.000 bombolette, ho lavorato circa 450 ragazzi ora è tempo di partersi, ora più che mai, senti la, senti la musica, amala fino allo spasimo senti la, senti la musica, cogliela, togli quest'attimo, prova a sentire la vita, riesce a sentire la vita grazie